Registra e... Eccoci qua. Allora, buon pomeriggio a tutti. Oggi parliamo di stereoscopia. La stereoscopia applicata all'osservazione della natura, di elementi naturali. Ovviamente potete osservare tutto quello che vi pare, però dato che ci occupiamo di questo, all'interno del nostro percorso, bene. E proveremo insieme anche a costruire dei modelli. Quindi tenete disponibile Keynote e PowerPoint, perché è questo, diciamo, l'applicazione che ci può servire. Ma iniziamo a vedere di che cosa si tratta. Allora, la stereoscopia. Intanto voi vedete che qui abbiamo una ragazza, che non è altro che una mia allieva, che osserva con questi speciali occhialetti di cartone che non sono più in produzione, purtroppo. Costavano anche pochissimo, pochi centesimi, quindi io ne ho comprati a Valanga, centinaia, e poi li ho distribuiti in vari meeting, conferenze, eccetera. Però purtroppo non sono più disponibili oggi. Però, vedete, sono molto comodi. Intanto, in questo caso, l'immagine stereoscopica viene proiettata da un iPad e questa ragazza mantiene una certa distanza. Quindi il primo elemento che noi dobbiamo considerare è che c'è una distanza oculare tra l'immagine e la posizione dell'occhio che la guarda per poter osservare l'effetto stereoscopico. Un'altra modalità è quella a contatto. La modalità a contatto richiede, ovviamente, che l'immagine sia di una certa dimensione, vale a dire che sia della dimensione di ampiezza dello strumento che usate per vedere l'immagine a contatto. Questo strumento è simile a quei visori in 3D che voi sicuramente avete visto, che si agganciano poi con un elastico o un sistema di sicurezza dietro la testa e quindi potete che vedremo poi appunto fra poco. Quindi queste sono fondamentalmente le due modalità attraverso le quali, principali attraverso le quali, noi possiamo vedere le immagini stereoscopiche. Questa, quindi, che vi mostro adesso, eccolo qua. Queste che vi mostro adesso, invece sono i visori di cui parlavo prima. Quindi anche questi sono a contatto. Sono a contatto perché, vedete, è la stessa cosa di questo, solo che qui ci si appoggia all'iPad, è uno strumento di questo tipo, e invece questi visori si indossano. Si indossano e dentro questi visori viene collocato, in questa fessura che si apre, qua sulla destra, viene collocato lo smartphone, lo smartphone dal quale vengono proiettate le immagini stereografiche. Allora, l'immagine stereografica, adesso ve lo illustro così brevemente, poi su questo noi monteremo e faremo un esperimento, però l'immagine stereografica deve essere composta ed è composta da rigorosi parametri geometrici, che, vedete, sono questi. Possono essere sul fondo nero, sul fondo bianco, possono essere più a 16 noni o a 4 terzi, ma questa è la dinamica di costruzione di un'immagine stereografica, che poi vediamo in che modo poi viene riprodotta su ambo i lati. Esempi, esempi storici di immagini stereografiche. La stereografia nasce quando, cioè si sviluppa soprattutto poi con lo sviluppo della fotografia, quindi vedete ci sono... Adesso voi potete anche fare una prova per vedere se vi mettete una certa distanza e cercate di incrociare la vista, cioè voi dovete guardare questo punto centrale. Dovete cercare di guardare questo punto centrale, vi mettete una certa distanza e incrociate la vista, perché non sarà sicuramente delle dimensioni giuste, in questo caso, forse lo devo anche... Ecco, magari così forse riuscite meglio, ma ci sono molti soggetti, diciamo la maggior parte delle persone è in grado di ottenere una visuale stereoscopica senza bisogno di strumenti, quindi semplicemente incrociando appunto la vista fino a che vedrà queste diligenze praticamente in rilievo al centro della pagina. Però è un esperimento molto complicato da fare così a distanza con questa tecnologia, perché non abbiamo proprio... Però può anche capitare che qualcuno di voi superdotato riesca a fare questa operazione. Però questo è importante perché in realtà noi non avremmo bisogno di strumenti per visualizzare le immagini stereoscopiche. In realtà poi ci sono degli soggetti che possono avere dei disturbi, per esempio un senso di nausea attraverso questo esercizio di concentrare la visione, quindi incrociare lo sguardo al centro. Questa è un altro... è la stessa immagine di prima, ma abbiamo invertito le due posizioni. Invertire le due posizioni è una cosa che bisogna fare per ottenere i migliori risultati, perché è molto soggettivo quello che risulta dalla visione di una certa composizione. Questo è un altro tipo di immagine storiche. Quindi vedete che la stereoscopia, la visione in 3D, non è un'invenzione delle tecnologie moderne, ma veniva applicata anche nella seconda metà dell'Ottocento a pagamento nelle piazze. C'erano questi signori che avevano delle scatole che ti consentivano di vedere all'interno gli effetti stereoscopici. Alberto, posso farti vedere questo oggetto? Sì, ecco, perfetto. È un visore stereoscopico dell'inizio del secolo. Dell'inizio del secolo, è fantastico. Vedi che è bellissimo, molto bello. Se puoi farne una foto, poi magari lo metti in Gotham in qualche form. Lo fai vedere ancora, scusa, perché osservate l'aerodinamica, sembra molto moderna. Qua c'è un cursore per avvicinare e allontanare le foto cartonate. È fantastico, vedi. Praticamente si posiziona qui questo supporto che aveva ricostruito mio marito perché non c'era più quello originale. Però praticamente scorrendo si riesce a calcolare la distanza giusta per poter riuscire a vedere la stereoscopia. Esatto, perché è una questione di distanza, in effetti. E non per tutti è uguale questa distanza. Poi vedremo anche il motivo. Mi colpisce, diciamo, la forma aerodinamica di questo oggetto perché è molto moderna, vero? Sì. Molto, molto moderna, sì. Uno pensa a chissà quale baracca, strana del stile Liberty fino ad 800, invece è proprio... Infatti c'è poi tutta una decorazione qua su. Bello. Grazie, Valeria. Prego. Quindi possiamo utilizzare le immagini del nostro ambiente. Vedete, qui abbiamo dei frutti. Non so cosa siano questi. Li ho fotografati io, non so cosa siano, va bene. Comunque abbiamo dei frutti. Qui abbiamo dei funghi, qui abbiamo una rana, dei fiori. Ecco, ci sono degli ottimi risultati nell'effetto stereoscopico quando noi fotografiamo in primo piano e in modo abbastanza nitido, se possibile, degli elementi di questo genere. Sicuramente meglio che per esempio dei paesaggi. Ma possiamo anche utilizzare delle immagini di questi oggetti come un tappo, un tappo che voi posate. Ecco, questo per esempio ha un ottimo effetto. Non so se qualcuno di voi riesce a incrociare lo sguardo e a vedere un tappo solo ma poi quando vi passerò a questo materiale poi potrete fare le vostre prove. Dunque, prendiamo proprio questo tappo e analizziamo un attimo la composizione di questa immagine. Perché? Perché se voi notate abbiamo una distanza differente tra il bordo del tappo e il lato sinistro che chiude la fotografia. Non tanto, però questa è la dimensione riportata qui. Che cosa vediamo? Vediamo che il tappo viene leggermente spostato sulla sinistra. Questo spostamento è importante, poi vedremo anche come calcolarlo, è importante perché è quello che determina esattamente il successo della visione stereoscopica. Possiamo utilizzare anche delle fotografie, per esempio, come questa. Questa è una fotografia che ha un alto contrasto cromatico, poi sono presenti il rosso e il verde. Il rosso e il verde sono dei colori che hanno un grande effetto a livello stereoscopico, quindi aumentano molto l'effetto della stereoscopia. questo è un negozio incredibile dove l'ho fatta? L'ho fatta in California, non mi ricordo dove, comunque c'era questo negozio dove vendeva solo zucchero, una cosa pazzesca, da suicidarsi proprio. Tutto quello che vedete è zucchero, zucchero in forme le più incredibili, dalle caramelle a qualsiasi altra cosa, un negozio intero fino a fatta solo in zucca. Ed ecco, per esempio, un'immagine di questo genere ha un grande effetto stereoscopico. Ho anche, per esempio, immagini di questo genere con queste, con dei colori che si accavallano in trasparenza, ci sono dei gialli, dei rossi, i colori primari anche. Vedete, questi rossi, questi rossi risaltano molto bene all'interno di un'immagine stereoscopica, poi in contrasto con i blu. Potete poi vedere quali sono i migliori risultati se li ottenete su uno sfondo nero oppure su uno sfondo bianco. Anche immagini che presentano oggetti e situazioni in primo piano con uno sfondo. il primo piano tende a risaltare, ovviamente, anzi, è auspicabile in questi casi che ci sia lo sfondo proprio per far risaltare il primo piano. Quindi, qui, la sedia con la signora e il bambino. Ho anche, vedete, immagini di questo genere, appunto, dove il colore ha presente una dominante e magari sul rosso, però ci sono anche dei verdi e altri colori che determinano degli ottimi risultati. Ecco, in questo caso l'immagine stereoscopica è molto forte se noi ci concentriamo su questo cammino. praticamente perché si vede molto bene a causa anche dei colori da cui è composto. Quindi, in realtà, voi potete usare anche le immagini, le fotografie normali che voi scattate. Potete fare proprio delle prove. Alberto, posso chiederti una cosa? le immagini che ci hai fatto vedere prima è la stessa fotografia che tu hai copiato e spostato un po', poi hai fatto due fotografie? No, ho fatto una sola foto e l'ho spostata. Sì, normalmente dovresti fare due foto. Adesso vedremo a che distanza poi anche, però in realtà questo per dimostrarvi che funziona l'effetto stereoscopico anche nel caso di fotografie normali che voi scattate quotidianamente. Poi un altro caso molto carino, interessante, specialmente per fare dei giochi con i ragazzi è il caso del fotomontaggio stereoscopico. Per esempio, questa è una fotografia che è tratta da Google Art. Adesso poi vi faccio vedere anche come noi possiamo utilizzare Google Art per ricavare degli sfondi molto interessanti che rappresentano una profondità e poi sono stati aggiunti due dinosauri e dei fumetti e l'effetto stereoscopico di questa immagine che a noi appare molto piatta è l'effetto stereoscopico straordinario perché questi dinosauri escono dallo schermo e i fumetti anche mentre sullo sfondo abbiamo il Colosseo con questo effetto 3D che qui è solo accennato perché vediamo che c'è una profondità ma la nostra visione invece bidimensionale non ci consente realmente di cogliere o per esempio abbiamo collocato questi due dinosauri su uno sfondo che è preso dall'alto lo stesso per esempio dicasi di questa fotografia normalissima che presenta una strada con un palazzo e poi abbiamo realizzato questo fotomontaggio con un dinosauro e abbiamo inserito queste persone che non c'erano la strada era libera quindi abbiamo due aggiunte e l'effetto è molto forte proprio perché c'è uno sfondo vedete che tende verso una visione panoramica verso l'orizzonte con queste persone in primo piano e il dinosauro dietro quindi abbiamo tre piani uno due e tre la stereoscopia dà il massimo quando abbiamo dei piani differenti di visione e questi piani sono chiari perché queste persone sono davanti a questo animale che è chiaramente in secondo piano e lo sfondo poi è appunto sullo sfondo quindi la combinazione di piani diversi offre i migliori risultati possibili da un punto di vista stereoscopico questo invece in quell'immagine lì del dinosauro mi sembra di vedere che anche il dinosauro si è spostato un po' a sinistra rispetto allo sfondo sì sì non tutta la foto ma anche i diversi piani i diversi elementi certo voi quando fate beh questa immagine diventa un'immagine unica una volta che volete creato il fotomontaggio diventa un'immagine unica e poi bisogna calcolare uno spostamento della dell'immagine però il dinosauro è spostato rispetto allo sfondo nell'immagine di destra è spostato leggermente rispetto allo sfondo esatto e vedi che anche queste figure sono spostate leggermente no? mentre lo sfondo in questo caso è rimasto lo stesso quindi in questo caso non è stata spostata l'intera foto già no per rendere per rendere un effetto stereoscopico maggiore centrato sui primi due piani ok poi questo è invece il caso di una camcoder 3D quindi non abbiamo un'immagine statica ma è questa è una videocamera che adesso vi mostro anche piazzata fissa quindi che cosa fa la videocamera questa videocamera riprende riprende con due obiettive adesso ve la faccio vedere per farvela vedere cosa faccio devo disattivare lo sfondo quindi disattiviamo ecco adesso mi vedete o disattivo un attimo la condivisione così forse mi vedete meglio ecco potete potete mettermi a tutto schermo così vedete questo oggetto questo oggetto è una piccola videocamera hdi che però presenta questo strano obiettivo e funziona in questo modo questo l'obiettivo si gira e quindi la videocamera riprende ecco poi si apre naturalmente qua e la videocamera riprende due volte la stessa scena tra l'altro sono oggetti che costano anche molto poco centinaio di euro niente di straordinario però è molto è molto interessante se voi fate delle escursioni avere degli strumenti di questo genere che vi consentono di avere delle riprese direttamente stereoscopiche e allora per invece chi è fotografo e quindi vuole degli strumenti un po' più sofisticati però non parliamo più di immagini di movimento ma di immagini fisse ci sono degli obiettivi questo è un obiettivo che è compatibile con i sistemi Canon quindi ha un attacco Canon e questo obiettivo ecco come si presenta quindi fotografa due volte la stessa scena questo tipo di obiettivo però è molto più caro di una videocamera allora il fotografo con la sua fotocamera chiaramente la sua fotocamera professionale e questo obiettivo ricava delle fotografie che sono già delle combinazioni stereoscopiche adesso riprendiamo la condivisione dello schermo e torniamo a noi per parlare di stereoscopia così qualche informazione per chi non avesse idea di che cosa sia la stereoscopia di come si comporta la nostra vista beh questo penso che lo sappiate la vista funziona in questo modo quindi incrociata e rovesciata è una vista di tipo monoscopico qui voi potete fare questo esperimento io potrei fare così vi do questo vi metto in chat questa dove è la chat vi metto in chat questa immagine voi la potete scaricare magari la scaricate su un dispositivo sul cellulare non so sì sul cellulare è la cosa ideale poi che cosa fate poi voi piazzate un dito piazzate un dito su questo punto rosso mettete un dito e chiudete un occhio tenendo sempre quel dito chiudete un occhio e guardate l'immagine tenendo premuto il dito e chiudendo l'occhio destro poi chiudete l'occhio sinistro sempre tenendo premuto quel dito e che cosa vedrete vedete uno uno scarto tra una visione e l'altra una differenza netta proprio di posizione non so se riuscite a fare questo esperimento senza accecarvi senza cacciarvi le dita negli occhi è vero che ne avete due quindi anche se ne perdete uno diciamo non è così però questo esercizio io suggerisco di fare con i vostri studenti i vostri ragazzi anche quando siete in giro in escursione così per far capire che noi siamo abituati a un certo tipo di visione perché abbiamo due occhi che combinano delle immagini che sono monoscopiche e risulta da una combinazione la visione che noi abbiamo e che determina una certa profondità è una finzione i nostri occhi non vedono quello che noi vediamo i nostri occhi combinano quello che recepiscono per mostrarci è un'operazione un'operazione che viene svolta dal cervello è il cervello che ci mostra quello che noi vediamo non i nostri occhi e questo vedete lo dimostra lo dimostra proprio in modo semplice perché vedete proprio uno scarto bene quello scarto è lo scarto che ci permette poi di comporre l'immagine stereoscopica ma a che cosa serve la vista stereoscopica? beh la vista stereoscopica ci permette di calcolare le distanze e quindi di misurare l'ambiente per valutarne le proporzioni ma se noi valutiamo le distanze e le proporzioni dell'ambiente ovviamente riusciamo anche a considerare i pericoli che si possono presentare per esempio sappiamo a quale distanza esatta si può trovare una situazione pericolosa che la vista umana la vista umana non ci permette di avere perché noi non abbiamo una vista stereoscopica abbiamo una vista bidimensionale che viene combinata dandoci l'illusione della profondità ma non è una vista stereoscopica ma allora chi possiede in natura una vista stereoscopica? beh per esempio i predatori i predatori hanno una vista 3D una visione 3D stereoscopica naturale perché perché per esempio permette loro di puntare alla preda calcolando meglio la velocità e collocandola nell'ambiente ecco uno dei motivi per cui sono precisi è esattamente questo i rapaci hanno anche una sorta di teleobiettivo al centro della retina nella fovea per ingrandire particolari lontani cioè sono capaci di vedere un insieme di cose poi di puntarne una e quella di ingrandirla ora voi pensate che nei rapaci la fovea è composta da un milione di prismi che sono specie di cristallini dell'occhio che sono quelli che ci permettono poi di comporre l'immagine bene nell'uomo sono cinque volte meno sono duecentomila è come avere una baracca di monitor in cui non vedi bene i dettagli e un televisore all'ultimo grido che ti tira e sembra è la stessa identica differenza questi animali vedono vedono a una altissima definizione e l'uomo no e possono ingrandire l'immagine fino a due volte e mezzo in alta definizione cioè mantenendo questa alta definizione senza perdita di qualità animali invece inferiori nella catena alimentare tendono ad avere una visione grandangolare quindi non una visione stereoscopica che punta verso un obiettivo ma grandangolare perché? beh perché loro hanno bisogno di vedere siccome sono delle prede hanno bisogno di vedere pericolo su ampio raggio il pre sei sparito mentre parlavi delle prede eh infatti ho visto strano beh comunque stavo dicendo le mosche forse parlavo delle mosche ecco le mosche vedono il movimento in 200 fotogrammi al secondo ora l'uomo vede il movimento intorno ai 18-20 fotogrammi con 24 fotogrammi al secondo noi abbiamo la riproduzione cinematografica c'è una differenza incredibile che cosa vuol dire che cosa vuol dire 200 fotogrammi al secondo beh se io girassi un film a 200 fotogrammi al secondo vuol dire che poi lo posso rallentare lo posso rallentare almeno di 10 volte e avrei dei movimenti fluidi cioè immaginate un soggetto che prende un bicchiere prende qualcosa in mano fotografato a 200 filmato attraverso una successione di fotografie composta da 200 fotogrammi al secondo vuol dire che poi siccome io ne ho bisogno solo di 20 24 per mostrare la fluidità del movimento lo posso rallentare di 10 volte quindi il gesto della presa del bicchiere sarà rallentatissimo mantenendo la qualità se io invece filmo a 20 fotogrammi al secondo 24 e poi lo rallento i 10 volte vedo tutto a scatti perdo la qualità dell'immagine e questo vuol dire che la mosca non è che può rallentare il tempo ma è come se lo rallentassi in effetti perché avendo 200 fotogrammi al secondo riesce a cogliere il singolo movimento 10 volte più veloce di quanto non sia cioè è come se lo rallentassi 10 volte e quindi quando noi ecco perché non riuscite mai ad acchiappare le mosche perché quando voi iniziate ad acchiappare la mosca la mosca ha già individuato tutto il movimento perché è come se lo vedesse al rallentatore e quindi fa in tempo a scappare dunque il segreto per acchiappare le mosche che poi è lo scopo di questo webinar udite udite il segreto per acchiappare le mosche è andare ed essere più veloci di 200 fotogrammi al secondo quindi esercitatevi esercitatevi su dei soggetti familiari date delle gran sberlone a delle velocità pazzesche perché così poi quest'estate ad agosto mosche e zanzare non hanno più scampo comunque tutto questo per dirvi che e poi immagino che voi abbiate anche delle documentazioni anche di altro genere ma la vista la vista non è esattamente quello che noi vediamo in quali modi si vedono due immagini diverse l'occhio questo lo sappiamo allora ci sono anche degli altri sistemi per creare delle immagini stereoscopiche per esempio attraverso l'anaglifo che è una combinazione di ciano e rosso il ciano in primo piano rosso sullo sfondo leggermente spostato e che si vede con quegli occhialetti li conoscete quegli occhialetti rossi e ciani di solito una volta li davano anche i giornaletti c'erano queste immagini voi le guardavate è un sistema un po' rozzo perché è un sistema rozzo perché è un sistema che non restituisce un'alta qualità dell'immagine e quindi per questo motivo è stato utilizzato poco però è stato utilizzato anche nel cinema al cinema avete avuto occasione magari di indossare questi occhialetti rossi e ciano per vedere appunto un film che è tutto composto da immagini di questo genere oppure siete andati nei classi cinema 3D che poi sono caduti un po' in disuso vi davano quegli occhialetti neri lì c'è un altro sistema ancora perché è una suddivisione del quadro dell'immagine che viene proiettata due volte e quegli occhiali permettono di ricomporre l'immagine in un quadro solo e questi sono gli occhialetti di cui vi parlavo prima in pratica c'è un altro effetto 3D non è proprio una stereoscopia ma un effetto 3D interessante che si può fare in casa è questo che adesso vi mostro abbiamo un soggetto in primo piano che si sposta l'immagine è assolutamente bidimensionale ma in realtà noi la percepiamo come tridimensionale e non sono altro che due fotografie montate attraverso un un trucco che diciamo per realizzarlo ci vanno dei software adeguati come After Effects o applicazioni di montaggio professionale però diciamo è una cosa anche questa che si può fare in casa questo non ci interessa asservare a distanza l'abbiamo visto o servare a contatto anche quindi non so perché sono riprodotte due volte via ecco guardate vi mando questo link interessante perché qui avete tutta una serie di fotografie della NASA dove la chat eccola qua non è più in funzione wow fantastico comunque cercate sul sito della NASA perché il sito della NASA presenta delle immagini bellissime e anche delle immagini stereoscopiche quindi sia fotografie che sono molto adatte perché questa è una fotografia adatta alla stereoscopia perché ha una profondità ha degli elementi in primo piano che si distaccano dallo sfondo e quindi la resa stereoscopica è molto buona anche questa immagine ha una resa stereoscopica eccellente vediamo se questo link funziona vi mando anche questo la vedete? consultare il sito guarda vai il sito guarda passo neanche questo funziona peccato però 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 cercate voi guardate la prima parte di questa url perché quella è il sito di accesso e poi si vede che hanno spostato queste immagini altrove ecco vedete che cosa vi voglio mostrare che potete mantenere anche una piccola distanza fra le due fotografie questo è ideale per la vista attraverso gli occhiali e questo invece a occhio nudo se notate le immagini sono invertite lo vedete questa si trova da questa sulla destra la sinistra si trova sulla destra perché per dei motivi tecnici la vista a occhio nudo ha una resa migliore se funziona in questo modo e quindi dovete sempre fare delle prove e allora la dima che vi ho mostrato prima eccola qua no poi funziona così quindi abbiamo le due le due immagini che vanno sovrapposte in questo spazio e come potete vedere questa è spostata sulla sinistra mentre qui abbiamo uno spazio maggiore adesso creiamo l'immagine stereoscopica proprio la facciamo questo cos'è eccolo qua questo è interessante allora se voi avete una fotocamera normale con un obiettivo da 50 mm classico potete riprendere qui c'era qualcuno che aveva posto la domanda prima queste sono due fotografie scattate su un cavalletto il cavalletto ha non so se siete pratici di cavalletti comunque il cavalletto ha la possibilità di montare un asse di acciaio dove voi potete spostare la fotocamera a destra o a sinistra si chiama slider uno slider è un oggetto slider si monta sul cavalletto di facile utilizzo si trova ovunque anche su Amazon costa poco uno slider si monta sul cavalletto poi si piazza la telecamera e si scatta una foto alla distanza di 6 cm e mezzo le due foto hanno qui una di in mezzo tra loro hanno una distanza di 6 cm e mezzo perché questo riproduce la distanza tra l'occhio destro e sinistro che è una distanza che viaggia tra i 5 e i 7 cm grossomodo e quindi noi dobbiamo riprodurre nella stereoscopia allo scostamento che vedete poi dovete sempre valutare se ottenete un effetto migliore così o così questo dipende anche dal fatto che voi osserviate l'immagine stereoscopica da un visore oppure cerchiate di incrociare gli occhi per vederla senza il visore questi sono i fotomontaggi che vi ho fatto vedere prima adesso proviamo a realizzare un immagine un fotomontaggio stereoscopico vediamo un po' se ci riusciamo quindi se mi seguite ah bene avete già trovato il link perfetto l'avete fantastico allora se mi seguite possiamo fare insieme questa operazione dunque voi avete google art l'applicazione non l'avete però se non l'avete vi collegate a internet all'applicazione google art adesso l'apro anch'io vi faccio vedere tutto facciamo questa prova quindi cosa fate voi cercate google art io ve la mostro sulla sinistra abbiamo proprio l'applicazione che ho scaricato google art c'è sia su computer che su tutti su tutti i dispositivi mobili oppure vi collegate a internet e cercate google art e date l'avvio a google art quindi lo avviate però io lo faccio dall'applicazione no lo faccio da qua va lo stesso va bene facciamolo da internet perché penso che voi abbiate più questa possibilità che non l'applicazione scaricata lente di ingrandimento cerchiamo cerchiamo un paesaggio che abbia un bello sfondo che abbia dei primi piani così per esempio come non so per esempio un Grand Canyon Arizona vediamo Grand Canyon dell'Arizona ok poi dobbiamo selezionare la visione a 3D vedete è interessante questa è un'immagine ideale perché ci mostra già ecco ci mostra delle profondità qui abbiamo un primo piano e qui abbiamo delle profondità quindi funziona molto bene per un'immagine stereoscopica fantastico vediamo no così è troppo ma però vediamo così ecco no così io torrei così poi che cosa facciamo dunque da qualche parte diciamo di togliere questi segnalini ci sono le preferenze per per dirgli che boh non vogliamo vedere quelle cose pazienza poi le trovate sulla invece sull'applicazione qua sulla sinistra spuntate il fatto che non vi dia nominativi pubblicità e cose varie quindi avete un'immagine pulita e poi fate una bella foto dello schermo facciamola così un po' un po' ampia ecco zac io ho fatto questa foto dello schermo poi poi cosa faccio beh la foto è qua eccola benissimo poi voi farete così anzi lo fate subito perché nella chat nella chat io vi do la Dima per la Dima la Dima la Dima per realizzare l'immagine stereoscopica e quindi dove è Dima allora vi do la Dima sia in versione Keynote quindi la prima che trovate è in versione Keynote e poi in versione PowerPoint penso vi siano arrivate entrambe quindi scaricate quella che vi interessa vi metto anche l'immagine che ho scattato perché casomai voi non abbiate Google Art avete delle difficoltà potete lavorare sulla stessa immagine io non lo vedo in chat in chat l'ho mandata a tutti mi risulta che sia a tutti la Dima c'ha Dima Dima PPTX poi schermata Dima Key dovrebbe esserci guarda bene sì io la vedo chi diceva che non la vedeva Flavia sì non mi è ancora arrivato l'ultimo messaggio è quello di Anna ah beh guarda tu potresti essere potresti visualizzare in questo momento dei messaggi privati peer to peer e non il messaggio a tutti guarda un po' no no sto guardando quelli a tutti e l'ultimo che ho ricevuto è quello Anna che mandava il link tu che cosa usi PowerPoint o Keynote PowerPoint allora te la rimando vediamo guarda mi risulta che sia arrivata ce l'hai? no no non riesco e l'immagine qui che ti invio adesso un'altra volta no è proprio l'ultimo l'ultimo messaggio è quello di Anna ah sai cosa ti dico Flavia Caironi sei proprio sfigata esatto eh eh no veramente cioè caspita non so cosa fare mandarlo via mail il link eh vabbè però adesso va la mail ho chiusa devo riaprirla fammi dare l'indirizzo facciamo così vi faccio vedere come si fa poi intanto avrete tutti i materiali e potete riprodurlo per conto vostro dunque che cosa facciamo allora facciamo così partiamo dalla nostra dima dove era dove era dove era qua qui allora qui ci piazziamo l'immagine dello sfondo io faccio così la prendo e la porto nella mia slide no così poi ovviamente la devo chiudere in modo tale però che mi restano restino dei bordi fuori devo fare così poi io usando Keynote faccio un doppio click e tiro le maniglie in modo da farle coincidere con le dimensioni della dima così e poi la chiudo qua con PowerPoint non so come si fa però quello che io devo ottenere praticamente è questo ma quindi fai un ritaglio dell'immagine esatto no non è un ritaglio perché non posso perderla cioè non posso perdere gli elementi dell'immagine che non che non vengono visualizzati sì cioè è un ritaglio virtuale quindi non so come chiamarlo e io vedo solo un pezzo esatto una maschera una maschera bravo una maschera una maschera e è che si chiama ritaglio in office e sono abituata a chiamarlo come in office una maschera quindi una maschera di questa immagine poi che cosa faccio poi la copio e la incollo esattamente così com'è e la porto di fianco e però devo spostarla quindi abbiamo detto che la sposto leggermente da destra verso sinistra non tanto è poco lo dovete fare un po' occhio perché non possiamo calcolare esattamente quei famosi 6 cm così ma più o meno calcolando la distanza in cui la vedete ecco che guardate mi sembra che ci siamo qui c'è questa ombra forse un po' più indietro così ecco c'è questo avvallamento che in parte viene ripreso bene poi adesso che cosa vi do nella mia grande magnanimità io vi piazzo anche l'immagine del dinosauro lo volete il dinosauro dov'è l'immagine di dinosauro allora stereoscopio qua stereografic immagini eccolo qua dinosauro il dinosauro perché ve lo do io perché il dinosauro deve essere in formato adatto il formato adatto è un formato png png senza sfondo quindi con sfondo trasparente cioè in pratica deve essere scontornato l'avete ricevuto il dinosauro Flavia come sei messa niente neanche un dinosauro c'è no no mai non arriva un pterodattilo un co niente un triceratopo non so Flavia ho provato a mandartelo via mail la Dima ah ecco brava 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 bene adesso cosa facciamo con questo dinosauro io lo acchiappo e me lo porto su guarda che bestione che è qua lo porto su e dove lo metto lo metto un po' dentro un po' fuori l'immagine così eccolo qua lo metto qua così un po' dentro un po' fuori poi devo duplicarlo e collocarlo trascinando io qui tengo premuto il tasto shift in modo da sistemarlo così però non mi piace perché c'è la coda no rifacciamo questo c'ha la coda quindi no vabbè vediamo però non è mica neanche detto solo che li copre un po' la bocca copre la bocca allora faccio così lo rimpicciolisco un po' lo tengo qui e poi lo porto di là ecco però lo faccio scalare un po' così lo faccio scalare anche il dinosauro perché in questo modo se sto attento l'effetto stereoscopico è maggiore vi ricordate quelle immagini con quelle persone in primo piano poi c'era il dinosauro dietro eccetera adesso vi do vediamo un po' vi do un altro dinosauro così piazziamo anche quest'altro quindi avete un dinosauro 2 trasparenza si chiama anche questo è in formato jpeg e questo dinosauro lo possiamo collocare qua per esempio quindi questo sta in primo piano no? lo voglio in secondo piano quindi lo porto indietro anzi porto avanti questi due facciamo prima sono già in cima perfetto questo è indietro va bene lo metto qui però non voglio che mi copra troppo questi rilievi quindi lo tengo più piccolo è come se lo appoggiassi qua ecco voglio vedere un po' i rilievi perché danno un effetto prospettico che poi nell'immagine stereoscopica si vede molto bene e faccio la stessa cosa che ho fatto con il primo dinosauro cioè lo sposto sulla sinistra e però lo tengo un po' più avanti cioè un po' più indietro così bene allora qui io poi cosa posso fare voi da powerpoint anche avrete questa possibilità magari di inserire una specie di fumetto magari senza così semplice scriviamo qualcosa dunque però se da me è troppo grande perché mi copre mi copre l'altra immagine quindi facciamo così più piccolino ecco così più o meno dovrebbe funzionare poi si possono fare degli aggiustamenti ovviamente però grosso modo secondo me così dovrebbe funzionare e a questo punto non dovete far altro che caricare la vostra creazione stereoscopica sul cellulare poi con il visore 3D dove è finito con il visore 3D potete vederlo ecco questo è un visore a contatto questo è un visore a contatto si fa così zac si apre quindi lo si appoggia e si appoggia al cellulare e si vede l'effetto l'effetto 3D ovviamente io però mi devo trasferire questa cosa sul cellulare per vederla perché perché metto il cellulare qua zac metto il cellulare qui così e poi posso osservare perché i visori invece i visori classici così non ne ho più li ho regalati tutti alla fine e non più a disposizione per il momento vediamo vi dico se funziona mi collego con la mia scrivania del computer tramite il cellulare e dov'è la fantastica creazione all'inizio Grazie. Ecco, si presenta in questo modo, sul cellulare si presenta in questo modo, quindi la metto dentro il visore ed ecco che io ho un'immagine stereoscopica che funziona. Mmm, interessante. Devo solo ingrandirlo un po' perché... ecco, aumentare un po' la visione, ma abbiamo l'immagine stereoscopica e questa immagine, questa fotografia funziona molto bene. Perfetto. Poi tra l'altro, senza occhiare pure meglio, abbiamo proprio questi due dinosauri in primo piano che sono fantastici. Poi vedete che con le due dita, che cosa faccio io? Con le due dita, vedete queste due dita qua, io apro e chiudo l'immagine perché è lì e bisogna proprio calcolare la distanza e quindi che è determinata dalla dimensione della fotografia. Fantastico, sono proprio molto in rilievo. Funziona proprio molto, molto bene. Bello, mi dispiace, non potrei farvi vedere l'effetto perché è impossibile, bisognerebbe avere qualcosa nel cervello che buca l'occhio e fa vedere quello che... e dimostra quello che io vedo, ma funziona molto bene. Vi mando anche quindi questo risultato, sempre nella chat, così potrete fare voi stessi degli esperimenti. Allora, noi abbiamo inserito dei dinosauri perché è simpatico, è un gioco, no? Ma voi potrete utilizzare degli elementi che appartengono proprio alla natura che state osservando. e allora avrete dei risultati veramente interessanti di osservazione per la vostra osservazione. Alberto, posso farti una domanda stupida? Tutto, tutto quello che vuoi. Ma invece con gli occhialini che davano appunto una volta al cinema per vedere in 3D non si riesce a fare niente? No, no, perché quegli occhialini lì hanno un sistema di righe che tu non vedi, hanno un sacco di righe, no? Sono, non so come spiegarti, sono, il cinema 3D tradizionale viene proiettato a due semiquadri per volta, cioè in realtà viene proiettato in questo modo. Un'immagine sta sopra e l'altra sta sotto, però viene proiettata la metà di questa immagine e la metà di questa. Allora tu hai bisogno di un occhiale che attraverso questo sistema di righe appunto, che è in grado di ricombinare l'immagine, quindi un sistema completamente diverso. Oltretutto ne esistono almeno 3 o 4 tecnologie diverse, per cui non è detto che con gli stessi occhiali che tu hai avuto per vedere un dato film, tu possa vederne anche un altro, perché potrebbe essere invece stato realizzato con una tecnologia differente. Ma basta anche un piccolo scarto tra questi semiquadri che la visione va in palla se non hai gli occhiali adatti. Quindi no, quegli occhiali lì non vanno proprio bene. Ok, grazie. Prego, figurati. Com'è, siete riusciti a fare qualcosa? A vedere, a dare? Io ho provato a fare simile alla tua, ma non so il risultato. Non so il risultato perché non hai il visore, per quello? E poi non riesco a incrociare gli occhi, cioè per me le immagini stereoscopiche… Non riesci a incrociarle, no? No, ma non riesco di mio. Quando ero al liceo c'erano quelle immagini che si vedevano soltanto incrociando gli occhi? Sì, 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 sì. Mai vista una, cioè proprio mai, mai riuscita. Ah, vedi, vedi, mai vista una. Ebbè no, certo, se non hai mai vista una, chiaro. Certo, infatti non tutti riescono a vedere in modo naturale la stereoscopia. Poi con gli occhiali sì. C'è qualcuno, una percentuale molto bassa, lo 0, qualcosa, che però non riesce a vedere neanche con gli occhiali, cioè neanche con il visore 3D. Voi pensate cosa mi è accaduto una volta. Ero in un'azienda e stiamo facendo dei lavori con le immagini stereoscopiche per mostrare determinati oggetti che servivano poi per una lavorazione. Insomma, vabbè. Ma sapete che io ho lavorato con cinque persone contemporaneamente e di questa azienda e quattro di loro, tutte quattro, rientravano in questa percentuale della 0, eccetera, per cui non vedevano, cioè era una roba incredibile, ma proprio assurdo, totalmente assurdo. Cioè su cinque persone ne ho beccate quattro che, cioè ma neanche andarle a cercare, tu ne trovi una a Hong Kong, una non so in Etiopia, l'altra ne ho. Pazzesco, però ci sono. Bene, io avrei finito il giochetto. È tutto qua. Mini webinar così, un passant, per farvi divertire un po' e magari riuscite a applicare questa cosa nel vostro lavoro. Ah, adesso ho visto il link mandato da Antonello che dice, collega YouTube, su come fare un visore. Sì, sarà il visore come farlo in casa. Ah, benissimo, certo, sì. E io sono Mura. Il cardboard, il cardboard è un visore, ecco, il cardboard è il visore che ha creato Google e che lui vende, vende per pochi euro comunque, però si possono fare in casa, certo. Sì, sì, giusto. Principalmente sul cardboard. E allora provate. Che è praticamente uno strumento. Potete provare. Più o meno delle dimensioni. Fatelo delle dimensioni del vostro smartphone, così siete a posto. E grazie Antonello, perfetto. Allora vogliamo vedere i risultati poi, eh. Ah, abbiamo anche Angela. Ciao Angela, non ti ho visto. Dici a me Alberto? Sì. Ciao. Io vi devo salutare, ragazzuoli. Farete degli esperimenti? Cosa dite? Ci proviamo. Provate, provate, provate. Proviamo. Tanto non c'è niente di, diciamo, è solo nel 3% dei casi che una persona muore davanti a un'immagine stereoscopica. Quindi non è che, a meno che non capito tutto come è capitato a me, che avevamo tutti insieme, non colpo solo. Però, diciamo, è molto difficile che capiti a voi, ecco. Quindi andate sul sicuro. Perfetto. Va bene? Perfetto, Flavia. Grazie mille. Sì? Ha ricciuto i materiali, Flavia? Sì, con le mail sì, e non ho capito però perché, adesso la chat, quando ho mandato il messaggio Antonello, l'ho vista. Ah, vedi? Il tuo anche non ho vista. Ma? C'è un blocco, forse, no? Sì. Comunque li reinserisco all'interno di Gotham e poi li troverete, come al solito. Quindi adesso abbiamo le lezioni, mi raccomando, votate, 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 passate parola e poi intanto c'è il Project War che ci avviciniamo verso la fine del nostro percorso. e il 25 maggio ci sarà la... Cosa c'è? Vediamo chi lo sa. Angela Loseto, che vedo qua di fronte a me, con quei begli occhiali. Cosa c'è il 25 maggio? Devi aprire il microfono, Angela. La grande serata, dico, il momento finale. Eh sì, c'è il grande ballo in casa Wayne. Aspita. Sì, preparate il vestito, vediamo. Eh sì. Penso che riceverete, non so, qualcosa. Boh, qualche indicazione. Vedremo. Vediamo. Va bene, ragazzone. Allora, buona serata e buon appetito, come dicono gli spagnoli. Grazie, buona serata. Grazie mille. Grazie. Buona serata. Ciao. Buona serata. Bene. Ciao. Ciao, 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 ciao. Grazie di tutto. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.